ciao da nicole allora cominciamo eccola qui questa è la prima si chiama cenerentola ma l'ho vestita io così vabbè questa l'ho vestita io così poi vediamo questa con la connellina poi vediamo questa qui però non è una barba la sirenetta è la mia preferita eh, le più silenne sono le mie preferite poi abbiamo questa qui che l'ho pure sbogliata questa è un po' nuda ha gli occhi ezzurri ok poi abbiamo questa qui nuda, sempre nuda ha le mutandine però con i capelli di così cioè biondine cioè biondine diciamo poi abbiamo questa qui quelle scarpe nere e la maglietta e i suoi capelli perché questa è molto molto bella poi vediamo che si chiama Sofì Sofì, dei miei compiuti ha pure il sederino il sederino ok ecco, chi è? poi abbiamo questa qui poi abbiamo questa qui che è la nonna poi c'è un filo che è la nonna poi abbiamo gli occhi un po' carina con i cavalli perché mi piacciono i cavalli poi abbiamo, oddio mi serve la piccolina quella di qui poi abbiamo Ken il maschietto di Barbie abbiamo lei non so come si chiama però è sempre Barbie quella, la Barbie con incinta incinta questo è un bambino questo è il bambino questa è un'altra Barbie quindi io faccio finta che è skipper perché si sembra una skipper poi abbiamo la bella bestia ciao ciao, sono la bella bestia poi io non ci arrivo non arrivo ecco qui abbiamo la piccolina un'altra mi è andata pure la gonna su eccola qui Chelsea la principessa l'addormentata che non mi ricordo il suo nome bella mi piace questo lo faccio a vedere questa è un'altra bella bestia che mi ha comprato la mia nonna con i spazzini poi un'altra Barbie Chelsea Chelsea non si mette aspettate eh non si mette vabbè la lasciamo così questi sono i suoi capelli lei che è quella che fa sul letto con la sua gemellina che fa sul letto ok qui questo video finisce qui se c'è un'altra parte che non mi ha fatto vedere può vedere così e ciao a tutti da Nicole con l'unicorno che assegnuno a tutti sono con l'unicorno